Ciao e benvenuto in questo canale di ASMR Therapy Oggi faremo una serie di triggers molto 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 rilassanti ed anche molto 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 lenti Nel caso tu non l'abbia già fatto e vorresti dare un tuo supporto a questo canale Ti invito ad iscriverti cliccando sulla campanellina sotto Partiamo con il primo nuovo trigger Grazie per la visione Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti Passiamo al prossimo Nuovissimo trigger Vediamo se riesco Ad aprirlo In modalità Super lenta È più difficile Vediamo 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 è una claviglietta bellissima 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 questa coniglietta ha anche una piccola sorpresa vediamo se riesco a capire come funziona non vorrei romper non vorrei romper ok e niente non riesco a capire come funziona magari ve lo svellerò nel prossimo video ok passiamo al prof vediamo chi riuscirà ad indovinare che cos'è questa piccola scimietta fatemelo sapere nei commenti ok 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 Grazie a tutti. 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 Cambiamo il materiale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.